benvenuti in ng security oggi vedremo come gli hacker attaccano le reti wifi nello specifico vedremo come si può clonare una rete wifi esistente quindi supponiamo un'azienda alla rete wifi l'hacker si avvicina il più possibile a questa sorgente wifi la clona per poter così effettuare un attacco per poter rubare ad esempio le credenziali ai dipendenti il dipendente quando andrà a connettersi alla rete aziendale troverà anche l'hotspot malevolo e nel caso in cui si connettesse è a rischio di attacco per poter attaccare una rete wifi dovrete disporre di uno strumento hardware in questo video stiamo utilizzando questo alfa network come potete vedere il prezzo è di 30 euro ed è sicuramente un ottimo strumento per fare pratica ovviamente noi nei nostri red team engagement utilizziamo strumenti più sofisticati quali questo wifi pineapple è sicuramente uno strumento avanzato non dà la possibilità semplicemente di creare un evil twin quindi di riprodurre una rete wifi ma sicuramente anche di capture the traffic quindi di catturare il traffico e di effettuare attacchi più complessi come man in the middle attack per quanto riguarda il software andremo utilizzare fluxion qui vedrete il repository ufficiale ovviamente noi non ci occupiamo di installazione ci sono tantissimi tutorial dove potete capire come funziona prima di lanciare il nostro attacco al wifi è importante andare qui giù nell'icona del wifi cliccare come vedete la mia rete è l'incam questa qui andare sulla tendina del wifi e selezionare il numero 2 in questo modo stiamo attivando l'adattatore a questo punto non ci resta che aprire la nostra cali qui dove scritto player dobbiamo andare ad attivare il removable device andiamo qui removable device questa è la mia scheda la disconnetto dal mio computer per attivarla qui sulla mia virtual machine a questo punto non ci resta che aprire la nostra cali andare in questo caso nei miei downloads e poi fare cd in fluxion e a questo punto lanciare il comando come amministratore quindi sudo fluxion.sh vi chiederò una password la mia inserita e come vedete è partito il programma italiano tutti i canali vado un po di fretta così vi mostro tutto interrompo la nostra linea a questo punto è la numero 1 mettiamo numero 1 facciamo un fake qui diamo un yes ci dice corrupted handshake qui mettiamo 1 questo è il passaggio successivo quando avete trovato l'end shake che è stato catturato vi chiederà di creare un ssl certificate noi premiamo 1 ce l'ha creato a questo punto ci dice quale web interface vuoi utilizzare noi dobbiamo comunque sia dare la possibilità all'utente che si sta connettendo al nostro wifi malevolo di avere un'interfaccia per lasciare delle credenziali ad esempio potrebbe essere tranquillamente un login form di google dove noi andremo a rubare addirittura tutte le credenziali dell'account google della vittima ed è importante perché spesso all'account google sono associati molti altri account in questo caso io premo 1 ci dà di nuovo tutte le lingue mettiamo l'italiano di nuovo a questo punto è partito il fishlet ovvero il template me l'ha già selezionato lui ma avete bisogno di selezionarlo questo è un po' quello che vi ritroverete vado ad allargare un pochettino questa è la parte più importante questo qua è il fake hotspot che è stato creato se io vado giù a cliccare dovremmo vedere il nostro evil twin tornando indietro ok eccolo qua questo è il nostro falso hotspot e apparirà anche sul cellulare adesso vado a connettermi come vedete ha catturato l'handshake mi sta chiedendo una password in questa parte noi avremmo potuto tranquillamente creare un file html e mostrare la login page di google o addirittura andare su github a trovare dei template già fatti si chiamano fishlet e metto la mia password gli do un enter e se torno indietro dovrei riuscire a vedere che la mia password come vedete vediamo riesco ad ingradire qui è stata salvata proprio qui in questa location qui root linken password.txt basta andare nel terminare andare a cercare il file txt ed avremo catturata la password delle credenziali della nostra vittima bene speriamo vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima su ng security città 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 città